Fino alla 30 ottobre al Museo Internazionale della Grafica di Castronuovo di Sant'Andrea è possibile visitare, preferibilmente su prenotazione, la mostra di incisioni di Enrico Della Torre. Ce ne parla Beatrice Volpe. Negli anni il Museo Internazionale della Grafica di Castronuovo di Sant'Andrea ha offerto ai visitatori una larga selezione dei migliori nomi dell'incisione, italiani e stranieri, nelle mostre ideate e allestite dal critico d'arte Giuseppe Appella. L'estate 2020 è dedicata a Enrico Della Torre, lombardo della provincia di Cremona, 89 anni intensi di attività e rapporti importanti in Italia e all'estero. È stato lo stesso artista a donare al MIG 60 incisioni realizzate tra il 1955 e il 2012, sintesi di un percorso caratterizzato dall'estrema nitidezza del segno, dalla pulizia formale e dall'essenzialità espressiva. Un nome fondamentale nella storia dell'astrettismo italiano che è possibile conoscere visitando l'esposizione di Castronuovo, sia andando sul posto, sia virtualmente. E proprio l'attività sui canali social durante i mesi di blocco provocati dalla pandemia ha rilanciato l'interesse nei confronti di questo piccolo prezioso museo. Siamo stati continuamente presenti attraverso tutta una serie di pubblicazioni, sia sulla piattaforma di Instagram, sia sulla piattaforma di Facebook. Grazie a tutti.